Ciao a tutti ragazzi e ragazze Allora, come vedete, questi video non sono mai capito sempre di farli di notte Adesso questa è la seconda puntata Che vi faccio vedere i miei edit e special Scusate se non l'ho fatto prima Beh, l'ho fatto solamente che mia mamma ha detto che c'era poco spazio Quindi l'ho dovuto cancellare Ma non si era ancora caricato Quindi si è levato E poi non lo potete vedere Va bene, mi stanno scocciando tutte le cose che si devono mettere in testa Non so perché, sono sfortunata Beh, ce ne sono ancora tanti La battaglia forse sta 24% Quindi ce la facciamo Dobbiamo fare presto però Perché 24 su 30 Uè che metà Non me ne importa quanti giorni ho fatti vedere Ma ciao ciao Come sempre Aspettate che ora ve lo prendo Ma ve lo prendo C'è lei Con la piccolina Allora, io Tutti i miei pets Li ho avuti su Amazon E' un po' strano Se poi sono l'unica che li compro su Amazon Ok? Lei l'ho comprata su Amazon E costava solamente 50€ Quindi Però è molto difficile trovarli Comunque Poi io la battuta che mi comprerò Fa sempre parte che poi esce la figlia Quindi alcuni forse sapranno chi è Comunque ci sta lei Comunque lo fa in fretta E lei Lei l'ho chiamata Laura Buonanotte Perché lei Qua sopra sono sicura che non si legge Aspetta Si è raggiunto Poi A volte faccio che anche lei Sia sua figlia Allora Tutti quanti stanno copiando il nome Che lei si chiama Bishu Perché poi Ok E' un po' imparazzante Ma mio padre ha comprato il microfono Quindi adesso me lo sta provando Comunque Lei Tutti quanti lo chiamano Bishu Ma io ho voluto cambiare il nome Anche io l'ho chiamata Bishu Ma Non è giusto che tutti quanti copriano il nome Di quella là Che hanno fatto un video veramente ottimo Solo che a me si è sporcata tutta Non è più bianca come una di quelle di prima Beh Mi sento un po' imparazzata A volte faccio che anche lei Perché vedete Ha una macchina Una macchia rosa E così sono tutti rosa Lo sapevo che cadeva Aspettate E comunque Questo qua Un po' corriso Rosa Ma lo butto come loro E lei l'ho chiamata Come l'ho chiamata Non mi ricordo No lei l'ho chiamata Lucia Non Laura E questa non mi ricordo No la chiamo anche Bishu È troppo bella il nome Bishu Non so come l'hanno inventato Sono troppo felice Sono troppo felice Sono finalmente grazie a MissySket Sono potuto avere un canale E sono davvero felice Grazie MissySket Ok Bene Poi ci sta questa Allora Lei non so che nome dargli Vabbè Non vi dico i nomi Perché È un po' scusciante Perché se no facciamo più tardi Comunque ci sta lei Tutta colorata Poi ci sta lui Tutto così Ma perché prendo quelli Questo è l'ultimo fake che ho avuto Vini si chiama? Non lo so Ma fa schifo Lei? No aspetta Lui? Lui? Naturalmente quelli là Che ho fatto vedere In quell'altro video Li ho levati Lei? Lui è carinissimo È un volpino Lo adoro Scusa se si è fatto troppo veloce Però ho paura che poi la batteria si scalica di nuovo Lo faccio per voi Con le date leppi milo Ve li faccio vedere alla fine Russell Questo ve l'ho voluto dire Ma perché C'è questo qua Lui Ha la calamita Come Si attaccata con la linea Di ferro Come vedete anche lei Mi l'ho ricordata Mi l'ho volcat In prima puntata Mi l'ho fatta vedere Si potremmi Faccio le fare tutto con una mano Mi l'ho fatta Ciccione Lui È un maschio Lei? Questi primi due Li ho avuti dalla Russia Da mia mamma Poi il volpino Scatano sempre Vabbè Sono messo questo coso Che è un barile Stavo spazzando Poi Lei Con il fiocchetto E le orecchie colorate E un cammino Ah Da te Zoe Aspettate un attimo Non è più nuova Come una volta Come Bishou Scusate se Se a Bishou Gli ho copiato il nome Ma è troppo carino Il nome Bishou L'ho trovato? Allora Lei Green Sweet Stavo schiacciando Mrs. Cat So che questa qua L'hai anche tu E so anche Che tu C'hai anche Lui Che la fai fare Una femmina Vero? C'hai anche lui Vero? L'ho visto in un video Che tu Che tu Lo faci In me Quello che Presenta E scendi Dalle stelle Non so se Se ci stanno altri Ma con la bus È maledetta Ecco questa Parfolla Sono per finire Questa La scimietta Aspetta un attimo Purtroppo Devo lasciare una Ok Sì Sono finiti Solamente questi Del McDonald's Che fa vedere Che ho maschi Però Nel cartone Però a me Non mi piace Vedere il cartone Perché così? Questo gattino Che io ho messo Questo Perché poi La testa girava troppo Non mi ricordo Come si chiama Vabbè Ciao a tutti Vabbè Volevo dire Va bene Ma perché ho detto Ciao a tutti? Ma che mi viene? Perché stiamo iniziando Già Comunque Addio Va bene Addio Vabbè Non lo so Non so che poi Se fare un video Proprio della sua vita Non lo so Senti Se a volte faccio Questo così È perché Tengo il dito sotto Perché non so Come mettere Così forse Alla meglio In secondo me Bene Ciao ciao Al prossimo video Mua Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti